Siamo quasi alla fine di questa festa di liberazione 2011, due parole sul programma che mi sembra, insomma, si è andata abbastanza bene, no? Che pensi? Sì, io ero l'addetto alla pizzeria, la pizzeria è andata oltre le aspettative, l'unico rammarico è appunto che stasera è l'ultima serata, però siamo già pronti per il prossimo anno con la stessa vivacità e lo stesso dinamismo. Al prossimo anno! Vai, via! Finalmente il nostro compagno Giannelli, Roberto, Faciano, no, no, proprio così nel transito. Posso accendere la scelta? No, guarda, ho due domande, prego. Prego. Dopo l'accesa di questa sigaretta, vogliamo sapere come mai questa sera hai scelto di venire a una festa di rifondazione? Mi sembra giusto, mi sembra giusto venirci, vedere chi c'è, le persone, è una festa che accoglie, ci sono le persone che conosco. Senti famiglia in questa festa? Famiglia, sì, 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 una famiglia, sì, sì, anche in famiglia. Come ti sembra, migliorata, insomma, ogni anno un po' meglio? Io sono di quelli che viene poco, però insomma, la gente c'è, le persone ci sono, le maglie rosse girino a tutto il piano. Vogliamo dirti anche, cogliere l'occasione per dirti che la tua presenza qui ci fa sempre piacere. Io, Riccardo, ti ringrazio e anche a me, hai detto una cosa che anche a me mi fa molto piacere, insomma, accompagni, fa bene, io sono un tipo solitario, insomma, quando sono in mezzo a queste persone qui… Ah, è già un successo quello qui, via. Quindi possiamo dire che la festa di liberazione è anche terapeutica? Sì, sì, per me sì, caspita, c'è un terapia a tutto il piano, lo sai che qui siamo terapizzati ai massimi. I massimi livelli, va bene, grazie al nostro amico Roberto Ciannelli.